Ad Ascol 2024, grande spazio al carcinoma del seno e ovviamente anche ai test genomici. Ne parliamo con Gianpaolo Bianchini dell'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano. Gianpaolo, grande importanza per i test genomici ormai entrati nella pratica clinica e significativa l'esperienza lombarda. Sì, la Lombardia per prima ha avuto accesso e rimborsabilità ai test genomici. Noi abbiamo pubblicato dei dati riferiti ai sei maggiori centri lombardi sull'uso di questi test. Sono emessi dei dati molto interessanti. Il primo è che tra i vari test genomici c'è una fortissima preferenza del tipo di test. Il 97% dei test prescritti corrispondono a quello che viene chiamato Oncotype DX. Altra cosa estremamente interessante è l'uso di questi test genomici e la scelta della popolazione. Le linee guida sono incerte sulla possibile utilità di questi test nel evitare l'uso di chemioterapia nelle donne giovani in premenopausa se hanno i linfonodi positivi. Nella survey che noi abbiamo condotto e quindi nei dati prodotti più di 1.100 pazienti noi abbiamo visto che invece l'uso nelle donne in premenopausa anche con linfonodi positivi è molto importante il che significa che la comunità oncologica utilizza questi test in modo più esteso e definisce un beneficio che al momento attuale non è ancora riconosciuto dalla linee guida soprattutto per alcuni limiti di disegno degli studi attualmente disponibili.